Grazie No No Adesso parto io che non sento quasi niente E sono Barbara Barbara Ragazzi scusate Dov'era l'arena? Ciao Riuscite a lasciare questo spazio Questo spazio Grazie Ci spostiamo un po' più indietro Ancora più Grazie Ci spostiamo un po' più indietro 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 Io sono sindaco di Correggio Quindi faccio un po' gli onori di casa Ringrazio poi tutti di Luciano Per essere tornato Ma non fa spesso nella sua città Insieme alla sua famiglia Ringrazio Emanuela per tutti Ovviamente coloro che hanno Sollecitato l'amministrazione In questa iniziativa Ci sono molte persone che ci hanno aiutato Degli assessori alla dettistanza All'ufficio tecnico A Fabio che ha fatto il murale In suo onore Per ricordare i suoi anni di casa E quindi anticipiamo Quello che sarà la ricorrenza Rispetto anche al tuo concerto Nel Campovolo E insomma è un omaggio Che la città ha fatto Ovviamente accompagnando In questo percorso i tuoi fans Per ricordare ovviamente Quello che è stato Dal primo tuo album Al tuo giorgio Fino ovviamente alla fama Che adesso Porta anche un po' il nome di Correggio Non è fondo Perché la persona che di Correggio Ci conosciuta Io la tengo corta Perché loro devono Ringraziarti E ovviamente siamo contenti Di questa giornata Che per noi è comunque Una giornata emozionante Ovviamente Correggio È comunque la tua città E di questo noi siamo felici Grazie Applausi 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 25 anni fa domani Usciva il primo album di Ligabue Ci sembrava bello Che per un anniversario Così importante Ligabue ricevesse un tributo Da noi Che in questi anni Da lui abbiamo avuto tanto E quindi con tanta emozione Che oggi siamo qui A festeggiare L'anniversario Di una carriera speciale E come direbbe qualcuno Ci va di ringraziare Il primo è per Alessandra Applausi Applausi Senza la tua idea Nulla sarebbe iniziato Il secondo è per il sindaco Del comune di Correggio Ilegna Malavati Insieme alla stessore Monica Maioli Anadia Stefano E Marco Trussi Presente anche lui Grazie Perché da subito avete accolto Con entusiasmo La nostra proposta Ci avete appoggiato Ci avete aiutato E ci avete dato La possibilità Di utilizzare questa parete Che è oggi Il nostro tributo Alla carriera di Ligabue Grazie Grazie E grazie a voi A tutti voi Che avete creduto in questo piccolo grande sogno E ci avete sostenuto concretamente E con gioia Affetto Fiducia Tanta fiducia Grazie 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 A tutti E allo Stato A tutti i colori Insomma Ci hanno contribuito A far sì Che quelle figurine Potessero contenere quella musica Che per noi è così importante Il quinto grazie Il quinto grazie E per i vittalini di Correio Voi che tutti questi anni Ci avete accolto E forse anche un po' sopportato Perché adesso vi trovate anche Con un muro più colorato Speriamo almeno che Voi arrivare un po' regalo di piano Amo E ovviamente grazie a Fabio Grazie Grazie Per aver realizzato così bene Questa opera Che a noi è piaciuta Fin da subito Fin da quando abbiamo visto il pozzetto E grazie per la disponibilità Che hai sempre dimostrato Anche quando ti è stato chiesto Di lavorare di notte Affinché la sorpresa Potesse essere stata E infine il grazie più grande Va inevitabilmente a te Grazie Te che 25 anni fa Domani Ci hai regalato Grazie per l'11 maggio del 2019 Grazie per non aver mai smesso Grazie per le tue canzoni Che sono diventate le nostre canzoni Quelle che ci possiamo fidare Grazie perché noi abbiamo un appuntamento Ci possiamo fidare Ci sono delle canzoni Anche del cantante Grazie 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 per averci resi sempre orgogliosi di te Grazie per questi 25 anni insieme Noi e te E la prossima Sempre Sempre Applausi E come se non fai Sono sempre un sogno E non la metà Ti vogliamo bene Tanto 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 E la buona Felice amore Bravo Grazie Grazie Sì È bene Grazie Sì A prestati Già Tutti Ecco Par thousand C VAN non ci abbiamo trovato l'Andrea Ita l'Andrea Ita vieni vai vai l'Adrea tolta l'Adrea 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 dai alla Monica, nel frattempo la Silvia lo dà alla Nadia, adesso ci apriamo che così almeno andiamo a migliorare, ok grazie piano, piano, calma, fermi qua, non ti fermi un secondo Barbara, ho il dito, facciamo questa barba se volete con il portoghia, ecco allora facciamo un attimino, un attimo suolo ragazzi, potete passare a passare per voi no, non lo spingete vedo una piccola parte grazie bravo Fabio grazie 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 ciao 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 Luciano ciao 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 Grazie.